Succede a Jinan, capitale della provincia orientale cinese di Shandong. Proprio in queste ore, per la prima volta al mondo, viene aperto al traffico un tratto autostradale fotovoltaico. Per due chilometri il manto stradale è stato realizzato da tre strati. Il primo, con cemento trasparente, fatto con materiale simile al vetro smerigliato, permette alle celle solari sottostanti di accumulare e trasformare l'energia solare in elettrica. In inverno la luce può trasformarsi anche in calore per sciogliere neve e ghiaccio. Nel terzo strato, che deve assorbire anche le sollecitazioni del traffico, sono state posizionate le bobine di induzione elettromagnetica. Prossimamente le auto elettriche verranno caricate in modalità wireless, mentre corrono proprio sulla strada. Anche la Francia l'anno scorso aveva sperimentato un chilometro di strada solare, ma non era stata aperta al traffico. Percorsi comunque verso la mobilità sostenibile per facilitare il passaggio alla propulsione elettrica. Per adesso una buona soluzione sono le auto ibride, come ci spiega Maurizio Menicucci. Nella disputa tra elettrico e termico, per molti esperti, la virtù sta pragmaticamente nel mezzo. Perché riteniamo che comunque l'ibrido possa essere la soluzione ponte. Ponte lungo perché innanzitutto anche le previsioni più ottimistiche prevedono una penetrazione di veicoli puramente elettrici con percentuali dell'ordine dal 10 al 20% a seconda dei paesi per il 2035. La sinergia tra i due tipi di motore infatti offre un vantaggio difficile da trascurare. L'ibridizzazione prevede una limitata quantità di energia stoccata a bordo sotto forma elettrochimica rispetto a un sistema di propulsione puramente elettrico. Questo vuol dire che può fare a meno di ingombranti, pesanti e costosi accumulatori. Le sue batterie hanno un volume fino a 20 volte minore, poiché servono di norma solo a contenere l'energia generata nelle fasi passive, come quelle di frenata, energia che viene subito spesa nel movimento dell'auto. Inoltre, proprio perché il motore termico mantiene un ruolo importante se non prevalente nella propulsione del veicolo e quindi continuerà ad essere il prodotto, l'ibrido non comporta una totale e costosissima riconversione dell'apparato industriale. E se la tecnologia promette grandi progressi per l'elettrico puro, soprattutto sul versante dell'autonomia, aiuterà anche l'ibrido ad aumentare le sue già notevoli economie. In futuro, questo si può prevedere con sistemi full hybrid fino a miglioramenti di efficienza dell'ordine del 40% rispetto ai sistemi tradizionali attuali. Cos'è un motore full hybrid? Un motore full hybrid è un sistema di propulsione in cui la parte termica e la parte elettrica hanno potenze confrontabili e quindi prestazioni del veicolo confrontabili nella marcia elettrica e nella marcia in termico. L'altra linea di sviluppo è la cosiddetta micro-ibridizzazione che riserva all'elettrico di potenza ridotta anche meno di una decina di kilowatt, tutto quel che non è la propulsione. Consentire ad esempio lo start and stop, a certa misura la frenata rigenerativa, può consentire un utilizzo più efficiente di molti accessori elettrici presenti a bordo del veicolo. Lasciando al termico la funzione principale di spingere... In questo modo possiamo arrivare ad avere riduzioni di consumi dell'ordine del 5-10% con un intervento tutto sommato poco invasivo e con richieste di energia installata a bordo nei sistemi di accumulo relativamente contenute. Grazie. Grazie.